Ciao amici di Ascoli, di Monticelli, vi saluto con cuore. Pietro, Fusco, i miei vecchi compagni, è sempre bello sentirvi, magari anche vedervi. Io vi auguro una bella stagione, un bel campionato, tutta la fortuna e il bene, davvi da fare. Avete sicuramente tanta voglia, tanto entusiasmo e godetevi anche il calcio. È una bellissima cosa, vi saluto della Germania e chissà, forse un giorno prima o poi li posso vedere. Allora, in bocca al lupo a tutti.